Chi è? Apri. Io dico che andavi troppo forte. Troppo forte? Ma che mai far dedicando, agente? Questa ciggia è rinchiudata sulle 40 miglia. Ah, lascia perdere. Fammi vedere la tua patente, il tuo libretto, licenza di carico e trasporto, luogo di provenienza e luogo di destinazione. Nient'altro? No, per il momento. Che cosa vuoi? I documenti. Quali documenti? Il libretto, il carico, il luogo, il trasporto, i documenti. Ma scusa, perché li vuoi da me? Come perché li voglio da te? È tuo il camion, no? Mio. Aspetta un momento. Io ti ho solo chiesto un passaggio e tu mi hai risposto perché no. Ma come? Allora adesso scendete subito con le mani in alto.